Adesso è ufficiale. Da oggi Cosimo Sibilia è il nuovo presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Un risultato storico raggiunto dal senatore di Mercogliano, primo campano a ricoprire la carica di numero uno dei dilettanti, ma soprattutto primo meridionale, dato che rende ancora più esaltante l'ascesa dell'ormai ex commissario straordinario della FIGIC Campania. A Lilton di Fiumicino si è tenuta infatti l'Assemblea Nazionale della LND, alla quale hanno partecipato ben 90 delegati. Presedi anche coloro i quali hanno voluto con forza la candidatura di Cosimo Sibilia, dopo averlo nominato come commissario straordinario della FIGIC Campania. Carlo D'Avecchio, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Giovanni Malagò, presidente nazionale del CONI. Antonio Cosentino, presidente uscente della LND. Tutti hanno avuto parola di elogio per il senatore Erpino, esaltandone un percorso fatto di cariche importanti e ruoli di prestigio, tutti nel rispetto della legalità e della trasparenza. Nel suo discorso programmatico Cosimo Sibilia ha tracciato le linee guida di quella che sarà la nuova Lega Nazionale Direttanti. Più snella, sgravata dai costi superflui, con più risorse a disposizione delle società, con nuove strategie di comunicazione e soprattutto con maggiore cura dei talenti. Una vera e propria rivoluzione, insomma. Quindi da Erpini, da Campani, da Meridionali non ci resta che augurare il nostro in bocca al lupo al nuovo presidente LND, Cosimo Sibilia.